Ok, dopo gara, dopo questa vittoria dell'Anzio Lavinio, un po' sofferta, primo tempo un po' stentato, loro che comunque hanno fatto una grande pressione, due delle protagoniste, Ruzza ha dato un po' il lancio, il rilancio, mentre Giulia Aiello questa sera eri un po' troppo, forse nervosa. Nervosa sì, perché è stata una partita abbastanza fallosa e l'arbitro non era in partita neanche lui, quindi ci siamo ritrovati a farci male e si siamo innervosite tutte. Ecco, falli veramente al limite proprio del regolamento. Ruzza, avete faticato, la tensione era tanta in campo, come si riesce a gestire queste situazioni? Diciamo che è stata una partita molto dura e difficile, soprattutto ecco perché ci sono stati parecchi falli e quindi dovevamo giocare anche, soprattutto con grinta e forza, anche a livello fisico. Però insomma siamo molto allenate a livello atletico e quindi questo ci ha fatto in modo che eravamo concentrate per tutta la partita. Ha un po' pesato il fatto della settimana dello stop forzato? No, non ha pesato perché ne abbiamo approfittato per migliorare alcuni aspetti che magari una settimana è un po' poco e quindi abbiamo fatto un pochino più di atletica e tecnica. Aiello, quando si trovano queste situazioni così un po' difficili da sbrogliare la matassa, quando non si riesce poi a far gol, poi vedi che la scuola avversaria riesce ad andare in vantaggio. Si ha un po' da combattere anche un po' con il timore di non farcela. Beh direi di sì perché comunque la testa in questo caso è tutto e noi l'abbiamo un po' persa, poi ci siamo ritrovate ma se giochiamo come sappiamo giocare non ce n'è per nessuno.